In maniera tale che riusciamo a chiudere effettivamente per le 18 quando dobbiamo lasciare la sala. Ringrazio Loredana per avermi voluto qui, ringrazio tutti gli organizzatori e li ringrazio per aver voluto qui un'anomalia perché io rappresento un'anomalia e lo vedremo di qui a poco per quale ragione dico questo. L'altro giorno seguivo online a dire la verità un evento organizzato dalla CGL che si intitolava il lavoro interroga a cui hanno partecipato tutti i leader della sinistra anche se a dire la verità insomma c'erano un paio di presenze che tanto di sinistra non mi parevano c'era anche il segretario Acerbo e si parlava di lavoro. Lì mi sono resa conto di una cosa, avevo affrontato diciamo questo ascolto con un po' di speranza ma ancora una volta la mia speranza è stata delusa. Ci sono pezzi interi di popolazione lavoratrice e poi focalizzo sul sud e ancora di più al sud che vengono che viene regolarmente dimenticata da tutto ciò che è sinistra. viene dimenticata o sottovalutata perché si ritiene che sia una parte di lavoro autosufficiente, ricca, benestante, con categorie assolutamente novecentesche perché tutto questo non è più vero o non è più vero per tutta questa popolazione lavoratrice. Mi riferisco e qui vengo all'anomalia, ai lavoratori e alle lavoratrici autonome, le partite IVA che vengono generalmente ricondotte nell'alveo della popolazione abbiente, bastevole a se stessa, non necessitante alcuna forma di sostegno né di welfare contro ogni evidenza. do qualche numero, io rappresento, lo voglio dire qui, un sindacato davvero anomalo che si chiama MGA, sindacato nazionale forense e rappresento gli avvocati notoriamente nella vulgata popolare considerati dei ricchi arraffoni addirittura, quando tutto va bene semplicemente degli evasori fiscali. Ebbene, andiamo a vedere un po' che cosa succede qui nel nostro sud, premesso che le partite IVA, non voglio parlare soltanto degli avvocati, ma ovviamente conosco molto meglio questa tranche del lavoro. I lavoratori autonomi sono quasi 5 milioni in Italia, 5 milioni di popolazione attiva, 4 milioni e 900 mila perché la pandemia ha un po' decimato i numeri. Di questi lavoratori autonomi, quasi 5 milioni abbiamo detto, quasi 2 milioni si trovano al sud. I redditi di queste persone, la vita di queste persone, andiamo un po' ad analizzarla. Voglio parlare semplicemente perché è un dato che conosco molto molto bene, della popolazione degli avvocati. Ebbene, nel distretto di Corte d'Appello di Salerno, voglio focalizzarmi proprio sul territorio perché poi credo che su queste cose che dobbiamo andare a guardare, abbiamo che circa il 30% degli avvocati di questo distretto hanno un reddito inferiore a 20 mila euro all'anno. Di questo numero ovviamente la maggior parte sono donne perché chi più fa le spese di tutta quella che è la difficoltà del lavoro autonomo, che poi va diviso in due parti quantomeno, ma sono tutte e due parti di cui dovremmo interessarci come sinistra, non lasciare questo discorso esclusivamente alle destre, appunto in base ad una visione che lega la lotta e le lotte e le vertenze sindacali della sinistra esclusivamente al lavoro salariato. Non è così. C'è la partita IVA che contiene dentro di sé una sacca di precariato esistenziale o non solo esistenziale, perché poi esiste anche la falsa partita IVA che è un nuovo strumento dello sfruttamento delle persone, che ha necessità di sostegno. Quando ci si interroga in eventi come quello che citavo prima, sul perché la sinistra abbia perso fascino sulle persone, perché le persone non seguono più la sinistra, beh, devo dirlo proprio in un luogo come questo, perché troppo spesso la sinistra, anche se è una parola un po' vaga questa, però ce lo diciamo fra compagni e compagna, si dimentica di ascoltare quello che serve alle persone, quello che serve ai lavoratori e alle lavoratrici. Nel caso del lavoro autonomo ci troviamo in presenza di due tipi di lavoro autonomo povero. Quello del falso lavoro autonomo, cioè della partita IVA utilizzata per tenere su lavoratori precari e sottopagati, ma di fatto in situazione di vera e propria dipendenza, e poi c'è il lavoro autonomo povero. Quello, per esempio, degli architetti, degli avvocati, dei commercialisti, ma vado oltre le professioni ordiniste, le guide turistiche, i bibliotecari, gli archivisti, gli igienisti dentali, i traduttori, gli interpreti, i lavoratori dello spettacolo, che hanno delle gravissime difficoltà, avevano già, fin dalla crisi del 2008, delle gravissime difficoltà ad affrontare la vita, perché sostanzialmente privi di qualsiasi paracaduta, per la malattia, per la maternità, per i periodi di calo di reddito, che poi è quello che si è verificato a far data del 2008, passando attraverso una pandemia, è adesso un'economia di guerra. Se continueremo a dimenticare l'esistenza di milioni di lavoratori e lavoratrici, che, e qua voglio fare un inciso che è fondamentale per quello che intendo dire, che non sono avversari o nemici dei lavoratori subordinati. Per i lavoratori autonomi e le lavoratrici autonome, che si inserisca in questo Paese un'idea di salario minimo, è salvifico. Perché? Perché chi fa il reddito del lavoratore autonomo, molto spesso, non solo ovviamente, ma è il lavoratore salariato. E il lavoratore salariato, peraltro verso, ha necessità di lavoratori e lavoratrici autonome che siano libere dal bisogno per fornire la prestazione più onesta, corretta possibile, più aggiornata, migliore, non dettata esclusivamente dal bisogno di arrivare alla fine del mese e quindi di lavorare come che sia. Questa divisione fra lavoratori autonomi e lavoratori subordinati è, grazie Loredana, perché parlerei anche ora, questo tu lo sai, perché non mi capita molto spesso di poter parlare a, come dire, a tranche di persone che non si occupano spesso di questo tipo di lavoro. La divisione fra, la contrapposizione fra lavoro autonomo e lavoro subordinato è stata creata ad arte dal neoliberismo, che ci vuole divisi. Invece quello che sarebbe necessario sarebbe di incrociare le lotte, e vado al sodo, visto che mi restano due minuti e mezzo a questo punto, che cosa è stato fatto post pandemia per sostenere i lavoratori iscritti alle casse di previdenza private o alla gestione separata IMSS. Soltanto un provvedimento, tanto vuoto quanto populista, preso alla fine del 2021, fortemente voluto dal PD, che sarebbe l'iscro, cioè questa indennità che sarebbe percepibile una sola volta nella vita, a fronte di un calo di reddito di più del 50% dell'anno precedente, e soprattutto a chi abbia avuto un reddito inferiore agli 8 mila euro all'anno. Praticamente, ma questo non lo dico io, lo dicono i numeri dati dalla stessa IMSS, non l'ha preso quasi nessuno quest'iscro. Con una particolarità fondamentale, che ha generato, siccome lo Stato non ha messo mano neanche in questo caso al welfare del lavoro autonomo, un aumento della contribuzione previdenziale presidenziale degli iscritti e delle iscritte alla gestione separata IMSS, spalmato uguale per tutti, che significa che l'aumento percentuale è stato dato sia al lavoratore super povero, sia al lavoratore super ricco. Che cosa proporremmo noi? E in questo vorremmo il sostegno dei sindagati, vorremmo il sostegno dei partiti e dei compagni e delle compagne. Noi proporremmo, come in realtà era già stato fatto in parte da una commissione sotto la Ministra del Lavoro Catalfo, una revisione generale del welfare, con un universalismo del welfare, che provveda a sostenere i redditi di tutti e tutte le lavoratrici. Esiste una bozza prodotta da questa commissione, sulla quale adesso non ho il tempo di addentrarmi, però voglio dire una cosa, che prevedeva sì un meccanismo assicurativo, cioè che i lavoratori e i lavoratrici avrebbero dovuto provvedere da soli con la propria contribuzione previdenziale a creare questo tesoretto che avrebbe sostenuto i redditi, ovviamente soltanto dei lavoratori a reddito basso, ma con una no tax area e con un aumento progressivo delle aliquote, ossia con un effetto redistributivo, perché a pagare questo tesoretto sarebbero stati ovviamente i lavoratori e le lavoratrici affluenti e non certo chi aveva bisogno di questo sostegno al reddito. Un'ultima cosa, Loredana, è davvero chiudo. Con il nostro sindacato abbiamo fatto tante e tante battaglie per i falsi lavoratori autonomi, per i dipendenti di fatto, a partita IVA, voluta dallo schiavista, mi stavo perdita dal datore di lavoro, ma qui c'è qualcosa in più, col Comune di Napoli, mi dispiace non aver potuto incontrare l'ex sindaco dei magistris questa mattina, avevamo messo su un progetto molto molto importante che andava a sostenere specialmente le false partite IVA. Avevamo progettato, poi non si è potuto realizzare, un protocollo che il Comune di Napoli avrebbe sottoscritto in base al quale il Comune non avrebbe più affidato incarichi ai liberi professionisti che avessero alle proprie dipendenze fra virgolette, lavoratori non inquadrati come da contratto collettivo nazionale o comunque contrattualmente inquadrati e forniti di tutte le garanzie e provvidenze. Chiedo a questa rete che Loredana sta creando in maniera fantastica, abbiamo sindaci, sindache nel nostro sud che sarebbero disposte insieme a noi a riprendere questo percorso. Questo perché? Perché crediamo, e con questo davvero chiudo, che si debba andare concretamente a toccare i problemi delle persone e a migliorarne la vita. Non soltanto parlandone, ma facendo anche piccole cose come queste. Se riusciremo ad avere non uno, ma dieci, cinquanta, poi cento comuni che non diano più lavoro agli autonomi che però si fanno sfruttatori di altri falsi autonomi, avremo già fatto un passo avanti nella lotta contro il precariato esistenziale di questa nostra tranche di lavoro. Grazie a tutti e tutta. Grazie a tutti.